Allora Francesco ce l'hai rifatta? Sì dai ce l'abbiamo rifatta a rimontare Camillo. Io ho scritto WeWinner ti ha ripagato il lavoro che gli ha fatto? Sì 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 mi ha ripagato qui WeWinner ma mi ha ripagato anche Lele il capitano della giraffa perché ci ha creduto e insomma mi ha voluto dare un'opportunità con un cavallo mio. Ha spesso le belle parole anche la sera nella giraffa però voglio dire lui certo lui però WeWinner insomma il lavoro che ha fatto su WeWinner è stato importante perché non era proprio un spincolizzante. Non era un po' da ghiotti dai Camillo però c'è anche una cosa c'è il proprietario Giorgio Fini l'ha sempre detto ma quando l'ha presa questa cavalla se riesci a metterci del tuo sa la cavalla che ti rimette in gioco dopo un paio d'anni devo dire ha avuto ragione lui. Anche loro hanno vinto la scommessa no? Eh sì. Tanto vuole la prendere per forza. È vero è vero e hanno fatto una scommessa difficile dai perché Camillo io mi ricordo la monta nel 2015 la monta in un paio in Sardegna me la teneva l'allenatore Cotto me la teneva al canale un po' a mano. Insomma non era infatti quando Giorgio mi disse ma questa cavalla dice Giorgio cala che può avere dei numeri ma sappi che corri dei rischi. Insomma lui è stato coraggioso e c'è stato un lavoro dietro da parte di insomma da parte nostra e da parte di chi ha voluto collaborare in questo progetto. Insomma bene dai è venuta è venuta fuori una cavallina da corsa secondo me. Senti assegnate cavalli è successo. Segnate cavalli Camillo credimi l'unica volta che da quando sono a Siena che da quando sono a Siena finite le batterie sono arrivato dentro nell'entrone gli ho detto a proprietari se c'è una batteria di recupero mi hanno detto di no ho preso le chiave del camion sono venuta a scuderia ho caricato due cavalli sono nata a gallopare da Bastiano. Io alle 12 meno un quarto era gallopare due carri da Bastiano ho finito ho finito più o meno sono ripartito alle 1 e mezzo sono arrivato a scuderia ho messo i cavalli in giostro le ho fatte una doccia e tutto e poi mi sono messo a fare le flebo quindi non sapevo né i cavalli che avevano scelto né a che contrade erano toccate. Mi chiamavano per telefono e mi aggiornavano un po' su questo un po' la mia ragazza un po' i proprietari che erano dentro l'entrone e mi hanno chiamato subito dicendomi che avevano preso tre cavalli dei miei su quattro e poi a quel punto niente sono stati assegnati cavalli alle contrade è toccato a qui venire la giraffa, con la giraffa comunque un po' di rapporto c'era e poi mi ha chiamato Lele e mi ha detto guarda tieniti pronto e che io sto facendo un po' di valutazioni e queste valutazioni ti sto prese in forte considerazione poi mi ha richiamato dopo un po' e niente preparate la valigia e venga a prendere il cuore che ha fatto il cuore lì per lì ero un po' scioccato perché non me l'aspettavo insomma dai anche perché insomma questa annata qui non ci avevo fatto tanto la bocca di poter rientrare però il cuore era tranquillo perché poi alla fine ho detto sono pronto la cavalla la conosco e ci andava con il leggero insomma dai Senti vedete le prove? Le prove bene, le prove sono mancate le prove oppure tutto sommato per lei posso andare anche bene? Sicuramente se si era fatta qualche bloc in più potrebbe essere un bene perché la cavalla riusciva a capire un attimino di più come dove mettere i piedi in piazza però nello stesso tempo sono stato meno svantaggiato di altre accoppiate perché comunque la cavalla la conoscevo quindi un po' di buca insomma hanno fatto pari insomma dai Senti il primo sammartino lo prendi un po' largo Il primo sammartino lo prendi un po' largo sinceramente Cioè a volte dicono Dicono dei discorsi di te che non tornano perché perché poi quando uno ha detto canapri e parte primo vuol dire che la lucidà ce l'ha se no non parte Primo quasi prima Sì sì vabbè dai buca mille a volte la gente chiacchierano anche per degli episodi visti in passato dove ho fatto anche degli sbagli e è normale che comunque quando monti dei cavalli che hai al canapo ti ci stanno un po' peggio comunque sia lì per lì puoi sbagliare ma poi anche è vero che queste cose ti fortificano perché mi sono ritrovato anche in altre situazioni dopo con cavalli guardiamo il pari di ferrara preziosa non è una cavalla che la mette al canapo sta ferma murata eppure mi pare la testa non l'ho persa ma perché? perché comunque ho fatto delle mie esperienze che mi hanno fortificato anche sotto quell'aspetto quindi ci vuole anche avere un fantino ci vogliono i tempi per crescere le esperienze, gli errori ti fanno capire tante cose perché gli errori ti insegnano più delle cose che non sbagli e niente il primo San Martino la verità io quando mi sono reso conto che ero davanti o perlomeno che avrei preso la testa una cavalla comunque c'è una bella azione e ho cercato di non farla sacrificare tanto in curva perlomeno ho detto al primo San Martino essendo un primo comodo cerco di fargliela rendere comoda non mi sono reso conto della lupa che arrivava talmente forte quando mi sono reso conto era troppo tardi e a quel punto è andata è andata si è preoccupato più di venire di fuori e non di venire di dentro? quello di fuori secondo me c'erano cavalli che al primo San Martino ce li facevo più di me sinceramente a lottare per prendere la testa e quindi poi sai ero anche in una situazione che anche c'erano da portare un po' di rispetto a un po' di situazioni e tutto quindi ho dovuto fare un po' sta un po' nel mezzo dai ho capito ma poi dopo il porto alvo si è a parco insomma quello visto come ha preso la pedalata sinceramente in fondo non ne ho più guadagnato un metro anzi c'è stato un punto dove un attimino lui mi fa via e poi mi riavvicino perché mi riavvicino poi mi piglia quel cipollone a San Martino e lì mi riperde quella lunghezza e mezzo che in fondo e lì sei stato bravo eh perché è stato un ciampone importante vedo lì eh insomma eh sì dai anche io non l'ho sentito ma lì come vai a fare quel ciampone per buono? ma lì sicuramente deve aver trovato qualche buca del giro prima e sicuramente per quello un po' ti ero pazzo eh secondo me sì perché lui la cavalla ora è a casa è rientrata a posto insomma dai a parte che c'è un taglietto dietro non so niente di che quindi tre cavalli in piazza alle 7 non è male eh insomma Camillo dai vuol dire che erano cavalli da poter da essere presi in considerazione e il quarto era solo hit e l'ho mandato a casa sì sì ho fatto il pari luglio e lui è e ad agosto forse è stato anche bene l'hanno preso eh sinceramente io non l'avrei nemmeno riportato sinceramente io ad agosto ma non perché il cavallo stava male perché se stava male non passava la visita e non e non faceva la tratta però ho visto il cavallo che debuta e tutto io dopo il pari luglio anche con Simone ne parlavo con il proprietario e ho detto io fosse mio non li riporterei però ho visto lui anche il proprietario e lui comunque sempre ripetitinoso e ci vuole provare sempre no? quindi la cosa che ti rimproveri a questo pari qual deve stare? ma la cosa che mi rimprovero Camillo alla fine c'è ma me la tengo per me dai me la tengo per me ne faccio tesoro e ripeto e sono sempre quelle cose che ti fanno crescere in tutti e per tutto c'è qualcosa da aggiungere? c'è qualcosa da aggiungere? c'è qualcosa da aggiungere c'è qualcosa da aggiungere che ringrazio di nuovamente anche il capitano e lo staff della giraffa che mi hanno dato un'opportunità e mi sono rimesso un po' in luce dai allora quindi un ringraziamento la bella è fatta a lei e alla cavalla la facciamo la cavalla la ringrazio tutti i giorni la cavalla e ripeto voglio ringraziare anche i proprietari di lei ma anche degli altri cavalli perché comunque mi hanno sempre sostenuto in tutti i momenti anche nei momenti meno belli anche se magari in certi momenti io faccio un po' dei ragionamenti sbagliati loro mi hanno sempre inquadrato nel percorso giusto e dicendomi guarda che ragionare così è sbagliato perché non è proprio così e quindi voglio ringraziarli un po' tutti che mi hanno sempre tenuto sul pezzo e mi hanno sempre dato i giusti consigli i giusti stimoli per ritrovarmi a mio favore ora che si presenta come sei vita la stagione? ora rimane da fare il par di asti speriamo fa fatto nei migliori dei modi in tutti i modi e ci porti? ci porto preziosa e come secondo vediamo forse Rodrigo e poi dopo il par di asti mi concedono una venticina di giorni di ferie in Sardegna e poi si riparte si riparte insomma con rapporti instaurati nel tempo e si programma l'annata del prossimo anno ok va bene grazie grazie a te Camille grazie a te Camille grazie a te Camille grazie a te Camille